In Biblioteca Civica è stato presentato il programma della nuova rassegna di eventi Primavera-Pordenone. Il sindaco Alessandro Ciriani ci illustra la finalità. L'Italia e dunque anche Pordenone sta vivendo una fase estremamente difficile. Detto questo, però il nostro compito è quello di evitare di cadere in una sorta di depressione collettiva post-Covid e anche alla luce, ripeto, delle nuove emergenze. Per questo abbiamo fatto affidamento alle forze culturali, alle centrali culturali, alle associazioni sportive, a quelle ricreative della nostra città per confezionare un pacchetto di più di 200 eventi che caratterizzeranno dal 19 marzo al 19 giugno la nostra città. Questo anche con uno scopo, quello di richiamare gente a Pordenone, fare in moio e dare ossigeno e aiuto anche alle nostre attività commerciali. La cultura, lo sport, il teatro, le attività artistiche sono una grande leva su cui fare forza per rendere Pordenone ancora più attrattiva dopo la crisi del Covid. L'assessore alla cultura e ai grandi eventi Alberto Parigi specifica il genere di manifestazioni che sono state organizzate. È un cartellone che comprende cultura, musica, tempo libero, attività per bambini. È un periodo in cui c'è bisogno di ripartire. Noi siamo convinti che gli eventi vadano organizzati, perché sennò rischiamo l'impoverimento culturale, lo sviluppo culturale dopo tanti mesi di restrizioni. Mentre l'assessore Walter De Bortoli puntualizza alcuni appuntamenti dedicati allo sport e al tempo libero. Il mondo sportivo farà la sua parte in questa primavera in città, con manifestazioni di carattere importante. Si va dalle internazionalità come le giornate del ciclismo, come si andrà anche per quanto riguarda il Pfeiffer. In pratica sport in questa città così bellissima assieme a tante altre cose. Non solo sport, ma anche il tempo libero che fa parte del mio referato. si farà presente con anche la festa del Noncello, che è il 17, 18, 19 giugno. Dunque fa parte di questa manifestazione. Pertanto invitiamo i cittadini, non solo pordenonesi, ma anche quelli dell'Inter e oltre, di venire in questa città bellissima e poter ammirare tutto il mondo sportivo con il tempo libero, che sarà sicuramente presente in modo molto qualificato. Il calendario aggiornato degli eventi è disponibile sul sito comune.pordenone.it slash primavera.